L'Italia arriva un po' impreparata, la classe medica italiana, medici e farmacisti, sono arrivati non completamente ben preparati a questa rivoluzione, a questo nuovo paradigma e il risultato qual è? Che ci sono paesi, direi la Germania forse fra i primi, in cui la presenza del cosiddetto generico puro in campo cardiovascolare, gastroenterologico, raggiunge il 70-80% contro quel 15-20% forse in alcuni settori italiani. Viene da pensare, è difficile immaginare che la classe medica e i farmacisti tedeschi siano scriteriati, siano avventurosi e si inoltrino su terreni accidentati. Probabilmente ci sono vari fattori di tipo molto psicoterapeutico. Fidarsi delle istituzioni, un paese dove ci si fida delle istituzioni, perché sono affidabili, perché danno risposte affidabili, se ricevono un'informazione istituzionale tendono a crederci. Ci sono paesi dove le istituzioni hanno un'immagine, possono avere a volte un'immagine diversa, condita da maggior diffidenza e allora si comincia ad avere un retropensiero, un po' di diffidenza, ma se mi dicono così è perché non vogliono spendere soldi, ma non lo so, questo è uno dei fattori che potrebbe giustificare questo nostro ritardo, ma siamo in ritardo sicuramente e se riusciamo a colmare una parte di questa differenza otteniamo quelle economie di scala di cui si diceva, cioè l'innesco della spirale virtuosa che porta all'ulteriore riduzione dei costi.